benvenuti siamo andati a visitare un paese del cilento roscigno vecchia un antico borgo del cilento fermo nel tempo se qualcuno mi chiedesse come definire roscigno vecchia io lo definirei come un antico borgo del cilento fermo nel tempo questa è la sensazione che prova il turista che vede per la prima volta il centro storico del comune di roscigno in provincia di salerno il colpo d'occhio della maestosa piazza di roscigno vecchia piazza giovane nicotera è stupendo non è un caso che ancora oggi la piazza ed i vicoli di roscigno vecchia continuano ad ispirare fotografi giornalisti filmmakers registi cinematografici e scrittori provenienti da tutte le parti d'italia e del mondo sono pochi infatti le ghost town che possono raccontare con le immagini una storia eccezionale ed unica come quella di questo antico borgo contadino del cilento nel sud italia oggi il comune di roscigno si divide in due frazioni una prima frazione chiamata roscigno nuovo nato dopo l'abbandono obbligato dei suoi cittadini agli inizi del novecento la seconda frazione è quella di roscigno vecchia il centro storico completamente disabitato cristallizzato agli inizi del novecento e visitato annualmente da migliaia di turisti la popolazione della vecchia roscigno è stata obbligata ad abbandonare l'antico centro abitato sin dal 1902 anche se realmente l'esodo è stato molto lento ed è durato più di 70 anni l'emanazione di due ordinanze del genio civile che fecero seguito alla legge speciale numero 301 del 7 luglio 1902 e la legge numero 445 del 9 luglio 1908 costrinsero una parte della popolazione al trasferimento e a costruire nuove abitazioni un chilometro più a monte in roscigno nuovo al centro di piazza giovane nicotera si può vedere la maestosa chiesa madre dedicata a san nicola di bari una chiesa settecentesca un po più in là troviamo l'antica fontana simbolo del centro storico poi casa dorina l'abitazione dell'ultima abitante che è vissuta a roscigno vecchio la chiesa di san nicola è stata ricostruita completamente a seguito di un incendio avvenuto la notte di natale del 1774 i turisti che visitano roscigno vecchia nei periodi di minori affluenza sono i più fortunati perché possono assaporare un'atmosfera magica fatta di pace e tranquillità che bisogna provare per capirla fino in fondo passeggiando per le antiche strade per gli antichi vicoli e per l'antico centro abitato ci si rende subito conto dell'unicità del luogo ogni angolo di roscigno vecchio infatti trasuda storia di un mondo contadino che non esiste più e che è difficile trovare in altre parti del mondo non a caso il centro storico dell'antica roscigno è un vero e proprio museo l'aperto di una terra di resilienza unica nel suo genere in piazza giovanni nicotera si possono ammirare la chiesa madre di san nicola di bari il lavatoio pubblico le cantine le antiche case dei contadini le case le potteghe degli artigiani e le case dei ricchi proprietari terrieri grazie a tutti grazie a tutti